ciao a tutti in questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa borsa io l'ho creata sia con l'uncinetto per quanto riguarda il bordo della borsa sia con i ferri per quanto riguarda il laterale adesso ve lo faccio vedere aperto ho voluto proprio che rimanesse all'interno quindi non sbordasse per non cambiare la forma della borsa che già mi piaceva così e soprattutto per non far sì che se nel caso mi vado a muovere la borsa ecco non mi escano le cose dal fianco vedete così non dico che è sicurissima ma insomma non mi ci possono mettere le mani né diciamo così inavvertitamente mi può sfuggire qualcosa al di fuori io ho messo come poi vi dico durante il video le perline da questa parte e di qua ho lasciato libero proprio per farvi vedere la differenza lì voi potete fare come volete potete mettere le perline potete non metterle questo non sta girato ecco potete metterle potete non metterle potete metterle di colori differenti sia sul davanti da tutte le parti che sul retro io non le ho messe insomma potete sbizzarrirvi con la fantasia una volta che questa borsa si apre è veramente capiente vedete da sua parte il filo che non ho ancora tagliato mi sono dimenticata questa borsa è veramente capiente non immaginavo e i laterali sono fatti così quindi ho questo cinturino che passa al di fuori della borsa poi la borsa si ripiega in questa maniera il cinturino si rimette a posto si chiude ed ecco che mi piace perché ha una linea molto molto pulita per tutte le tecniche che comunque vi spiego durante il video trovate comunque qui sopra e qui sotto nel box informazioni tutti i link a video dedicati ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla per iniziare abbiamo bisogno del set amelia io l'ho scelto nella colorazione turchese un cordino io ho scelto il thai slim sfumato nella colorazione mare dei ferri circolari o dritti perché tanto si lavora in ferri di andata e ritorno quindi potete scegliere se circolari o dritti come vi trovate meglio numero 3 un uncinetto numero 3 un ago da maglia un accendino un metro da sarta un contagiri dei marcatori a lucchetto dei marcatori ad anello un filo di nylon trasparente un cacciavite a croce delle perline prisma da 8 mm io ho scelto le silux e poi in opzione se volete delle perline da 4 mm crystal multicolor e vabbè io ho preso anche un cavalluccio marino perché mi piace ed è in tinta ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni per prima cosa per non far sfilacciare questo cordino perché è fatto a tricottino fermiamo l'inizio poi ci ricordiamo di fermare ogni inizio e ogni fine semplicemente avvicinandolo ad una fiamma mi raccomando state attenti a non bruciarvi in maniera che così non si sfilaccia più poi andiamo ad aprire la nostra borsa ed andare a togliere mi raccomando delicatamente senza rovinarla la placchetta in modo da far uscire la fibbia ecco perché ci serve il cacciavite quindi mi raccomando è piano con delicatezza senza rovinarlo allentiamo le viti e poi andiamo ad aprirlo state che ancora qualche giro ok 1 e 2 ecco qua placchetta tolta e quindi a questo punto posso far uscire la fibbia in maniera che così possiamo lavorare con più facilità perché è tutto aperto quindi con l'uncinetto numero 3 lascio una codina e entro nel buco prendo il mio cordino e inizio a lavorare tre maglie basse per ogni buco quindi entro una maglia bassa entro due maglie basse intanto scusate incorporo il la mia codina e entro 3 maglie basse mi sposto nel prossimo buco e continuo una maglia bassa 2 maglie basse 3 maglie basse e vado avanti così per tutto il resto dei buchi della borsa ok sono arrivata alla fine e adesso faccio una catenella taglio il filo lo blocco con la fiamma e poi lo nascondo nel retro adesso vado ad avviare sul ferro 73 maglie con l'avvio con l'uncinetto per chi non conosce questo avvio lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato comunque è abbastanza semplice perché basta fare la prima catenella all'uncinetto poi prendo il ferro faccio passare il cordino sotto il ferro sopra l'uncinetto e faccio una catenella così ho avviato la mia prima maglia poi proseguo filo sotto il ferro sopra l'uncinetto catenella e ho avviato la mia seconda maglia ancora sotto il ferro sopra l'uncinetto catenella sotto il ferro sopra l'uncinetto catenella e come vedete si avviano in questa maniera tutte le 73 maglie bene ho finito di avviare tutte le mie maglie e ho messo i marcatori a lucchetto perché adesso andremo a lavorare a ferri accorciati quindi la maglia centrale l'ho segnata con un marcatore viola mettendo proprio il marcatore sulla maglia perché quella maglia andrà lavorata nei ferri a dritto la lavoriamo a rovescio e nei ferri a rovescio la lavoriamo a dritto poi ho messo due marcatori che segnano le sette maglie centrali a distanza di due maglie due di qui e due di qui ho messo altri marcatori poi ancora a distanza di due maglie altri marcatori quindi lavorando a ferri accorciati cosa facciamo andiamo a lavorare tutte le maglie fino al primo no scusate secondo marcatore verde qui come vi ho detto lo sostituisco con dei marcatori a lucchetto questi vengono passati tolgo il marcatore giro il lavoro quindi sono sul rovescio del lavoro e lavoro fino al marcatore verde da questa parte tolgo il marcatore giro il lavoro e vado fino all'azzurro tolgo il marcatore giro il lavoro fino all'altro azzurro tolgo il marcatore giro il lavoro il rosa tolgo il marcatore giro il lavoro e rosa comunque adesso ve lo faccio vedere questa è solo la prima parte dei ferri accorciati poi vi spiego man mano le altre fasi successive quindi iniziamo col primo ferro lavorando normalmente tutto a dritto fino al secondo marcatore verde ok sono arrivata al secondo marcatore verde lo tolgo come vi dicevo la maglia centrale l'ho messa fra due marcatori ad anello perché va lavorata al contrario della lavorazione che stiamo facendo quindi qua io sono sul dritto del lavoro lavorato tutto a dritto tranne la maglia centrale che l'ho lavorata a rovescio adesso appunto ho tolto il marcatore e cosa faccio giro il lavoro sono sul rovescio del lavoro col filo davanti passo a rovescio la prima maglia senza lavorarla e poi lavoro fino all'altro marcatore verde lavoro chiaramente a rovescio tranne appunto la maglia centrale che come vi ho detto va lavorata al contrario di quello che stiamo lavorando quindi questa la lavora dritto passo il marcatore ad anello e si ad anello giusto scusate e lavoro a rovescio fino al prossimo marcatore a lucchetto a questo punto tolgo il marcatore a lucchetto giro il lavoro sono sul dritto del lavoro col filo dietro passo a rovescio la prima maglia senza lavorarla e poi proseguo punto marcatore ad anello maglia centrale marcatore ad anello vado avanti fino al prossimo marcatore a lucchetto eccolo qui a questo punto tolgo il marcatore giro il lavoro filo davanti passo la prima maglia rovescio senza lavorarla e lavoro a rovescio mi raccomando come abbiamo detto la maglia centrale sempre lavorata diciamo così al contrario di quello che noi stiamo facendo proseguo sempre a rovescio fino al prossimo marcatore a lucchetto tolgo giro filo sul retro passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla e proseguo lavorando appunto come vi ho fatto vedere fino a togliere tutti i marcatori finito la prima parte dei ferri accorciati adesso arriva la seconda che è un pochino più complicata quindi se volete potete aiutarvi mettendo dei marcatori ma sono veramente tanti per quello che non li metto poi diventa difficoltoso anche lavorare oppure con seguendo il contagiri e quindi diciamo così segnandosi cosa bisogna fare ad ogni ferro è una sequenza praticamente di quattro ferri che va ripetuta adesso ve la faccio vedere dunque io solitamente faccio così nel primo ferro conto le maglie dopo la maglia centrale quindi arrivo a lavorare fino a qui e poi conto 1 2 3 4 5 6 7 8 a questo punto è come se avessi il marcatore a lucchetto quindi cosa faccio conto 8 maglie giro il lavoro e faccio il ferro accorciato dall'altra parte sul rovescio del lavoro ve lo faccio comunque vedere durante la lavorazione lavoro fino alla maglia centrale da qui stiamo tornando indietro conto 8 1 2 3 4 5 6 7 8 quindi passo la prima maglia lavoro fino alla maglia centrale io sono a dritta quindi lavoro a dritta la maglia centrale sempre sul dritto la lavoriamo rovescio sul rovescio la lavoriamo dritto adesso contiamo 8 1 2 3 4 5 6 7 e 8 a questo punto giro il lavoro passo la maglia siamo a rovescio quindi lavoriamo tutto a rovescio tranne la maglia centrale che va lavorata dritto e dopo aver lavorato la maglia centrale anche qui conto 8 maglia centrale e faccio 1 2 3 4 4 aspettate che si è ok 5 6 7 8 giro il lavoro passo la maglia lavoro fino alla maglia centrale ok 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 eccoci qui e conto 1 2 3 4 5 6 8 g Questa è l'ottava che va lavorata insieme alla nonna maglia, quindi lavoro tutte e due insieme a dritto, così. Giro il lavoro, proseguo normalmente passandola, lavorando a rovescio, fino alla maglia centrale. Chiaramente questa va lavorata dritto. Ok, e adesso conto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Questa è l'ottava che però lavoro assieme con la nonna. Attenzione, come le lavoro assieme? Le lavoro a rovescio, ritorto, quindi da dietro, in questa maniera, le prendo tutte e due, non dalle gambette davanti. È un ritorto normale a rovescio. Le prendo da dietro, mi sono sfuggite, scusate. Ecco, dicevo, le prendiamo da dietro, ok, così. Giro e quindi riparto. Conto nove dalla maglia centrale, poi giro, sono sul rovescio, dalla maglia centrale, conto nove. Giro, ritorno sul dritto. Dalla maglia centrale, conto praticamente otto, perché la nona e la decima va lavorata assieme normalmente. Quando giro, lavoro fino alla... Alla, mi sono persa nel conteggio, scusate ragazze. Oddio, fino all'ottava, perché poi va lavorata insieme la nona e la decima. Comunque, quando arrivo qui, vi faccio vedere il pezzettino. Ok, passata la centrale, uno, due, tre, quattro, cinque. Oh, mamma mia, si sono incastrate qui, perché stiamo lavorando con dei ferri molto più piccoli rispetto al cordino. Quindi abbiamo detto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Giro, normalmente passo e anche qua vado a contare nove dopo la maglia centrale. Poi vi faccio vedere un trucchetto per capire a che punto siete, se non vi volete segnare tutto, mettere marcatori. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Giro e vi faccio vedere sempre dopo aver lavorato la maglia centrale, perché qui è tutto normale come sempre. Ok, dalla maglia centrale, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e queste due la nonna la devo lavorare insieme. Il trucchetto è questo, come fare a capire, a parte il contare, ma come fare a capire quali sono le due maglie che lavoriamo assieme? Perché quelle che lavoriamo assieme è così. Una è quella di base, vedete, dell'avvio, cioè solo l'avvio. L'altra è già stata lavorata una volta, vedete, invece qui no, vi faccio vedere la differenza. Questa è sola, non è mai stata lavorata. Questa invece, vedete, è stata già lavorata una volta, quindi queste due vanno assieme. Adesso vi faccio vedere dall'altra parte. Eccoci qua, sul rovescio del lavoro. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E qui vi faccio vedere, vedete? Questa è stata lavorata, questa è stata lavorata, questa no. Quindi, otto, eccoci qui, qui si vede bene. Vedete, queste non sono mai state lavorate, questa è stata lavorata una volta. E queste due le prendo insieme a rovescio ritorto, quindi dal retro, le prendo insieme così. E poi giro. Questa volta, invece, devo lavorare normalmente, cioè una maglia in più, senza lavorarle assieme. E vi faccio vedere come si presenta qui alla fine. Ok, dalla maglia centrale, anche qui contiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Perché dobbiamo contarne sempre una in più. Come faccio a sapere qual è l'ultima maglia, quindi la nona? Perché ha due, vedete, due maglie assieme, qua si vedono. E comunque, quando la lavoro, si vede che c'è uno stacco e questa è la decima. Perché lavoro una volta una maglia in più da parte, una volta una maglia in più di qua, una volta una maglia in più di qua, una volta due maglie insieme di qui, una volta due maglie insieme di qua. Quindi vado avanti, così, passo, lavoro e poi io conto sempre dopo la maglia centrale. Questa volta va contata dieci. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Vedete, qui ho due, due maglie lavorate assieme, quindi nove, questa l'abbiamo già lavorata, e dieci. E proseguo. Quando siamo arrivati a lavorare, dopo la maglia centrale, dodici maglie, giro, passo la prima maglia, lavoro a rovescio, dopo la maglia centrale, dodici maglie, giro, lavoriamo sempre in questa maniera, e cioè, dopo la maglia centrale, undici maglie e due maglie assieme. Poi giriamo il lavoro, dopo la maglia centrale, undici maglie normali e poi due assieme. Comunque, adesso ve lo faccio vedere, anche se l'abbiamo già visto prima. Quindi, dopo la maglia centrale, lavoriamo sempre uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, e undici, e due assieme. Sempre così, giro, arrivo fino alla maglia centrale, chiaramente qui le due assieme vanno lavorate a rovescio, ritorto. Arriviamo fino alla maglia centrale, e andiamo avanti in questa maniera, fino a quando abbiamo 27 maglie totali sul ferro. Quindi, quella centrale, e poi undici, quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, undici, e due assieme, queste due, ma a rovescio, ritorto. Ecco qui, giro, e punto, vi dicevo, andiamo avanti così, fino ad avere proprio 27, scusate, maglie totali sui ferri. Ok, ho 39 maglie totali sui ferri, e adesso per fare le asole, vi faccio vedere, per far passare il cinturino, chiaramente una da questa parte e una da questa, vedete questo è il cinturino, per far passare le asole, dobbiamo lavorare in questo modo. Quindi, dalla maglia centrale, conto 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e metto un marcatore a lucchetto. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, maglia centrale, e conto 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dove ci sono i marcatori a lucchetto, devo andare a chiudere una maglia, appunto, per poi fare le asole, possiamo chiamarle, sì, chiamiamole asole, anche se poi non sono per i bottoni. Quindi, cosa faccio? Lavoro normalmente all'inizio, quindi passo, lavoro, 1, 2, 3, qui devo andare a chiudere la maglia, quindi tolgo il marcatore a lucchetto, faccio un altro dritto, e poi chiudo, vedete? Qui ho chiuso la maglia. Possiamo anche rimettere il marcatore a lucchetto dove c'è la maglia chiusa, in maniera che così poi a rovescio sarà più facile individuarlo. E poi lavoro fino all'altro marcatore a lucchetto, normalmente, come abbiamo sempre fatto. Arrivata all'altro marcatore a lucchetto, qui so che devo chiudere una maglia. Quindi, ne lavoro, 1, 2 e a cavallo, così questa maglia è chiusa. Rimetto il marcatore per segnarmelo, e poi vado avanti, normalmente, prendendo anche le ultime due insieme. Giro il lavoro, e qui lavoro normalmente, passo, lavoro a rovescio. Quando ho il marcatore a lucchetto, so che è dove ho chiuso la maglia, quindi tolgo il marcatore e faccio quattro gettati consecutivi, quindi 1, 2, 3 e 4, e poi lavoro normalmente fino all'altro marcatore a lucchetto. Arrivata all'altro marcatore faccio la stessa cosa, lo tolgo e faccio quattro gettati. Mi raccomando, i gettati vanno fatti a rovescio, perché stiamo lavorando a rovescio, quindi non così, ma al contrario, no? Così, 1, 2, 3 e 4, e poi vado avanti a lavorare normalmente fino alla fine. Quindi qui ho le due maglie a rovescio, queste e questa, vanno lavorate a rovescio, ritorto. Giro il lavoro, passo la maglia, e lavoro fino ai quattro gettati. Quindi, eccomi qui, a questo punto abbiamo i quattro gettati, e io cosa faccio? Devo lavorare a dritto, quindi entro nel bucone che si è fatto e lavoro tre gettati, questa volta a dritto, quindi 1, 2, 3. Poi faccio cadere tutti i gettati e continuo a lavorare a dritto fino agli altri gettati, dove chiaramente lavorerò nella stessa maniera. Entro nel bucone, creato dai gettati, e lavoro i tre gettati sul ferro. Ok, sono arrivata anche qui, entro nel bucone e faccio tre gettati, 1, 2 e 3. Esco, faccio cadere tutti i gettati e lavoro normalmente, chiaramente le due ultime maglie insieme. Giro, passo la prima maglia, lavoro a rovescio fino a che non trovo i tre gettati. Eccoli qua, tre gettati. Cosa faccio? Attenzione, entro nel bucone di prima, non entro così, eh? Entro nel buco grande che abbiamo creato all'inizio e lavoro due gettati, 1, 2. Poi faccio cadere tutto e proseguo a rovescio. Stessa cosa faccio dopo, comunque ve lo faccio rivedere. Ok, sono arrivata ai tre gettati. Anche qui cosa faccio? Non entro qui, ma entro nel bucone e lavoro due gettati, 1 e 2. Esco, faccio cadere e poi lavoro normalmente, ricordandomi chiaramente che l'ultima maglia va lavorata assieme a quella successiva a rovescio ritorto e poi giro. Prosseguo normalmente fino ad arrivare ai due gettati e anche qui entro nel bucone e faccio un gettato. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Ormai più o meno avete capito che si entra nel bucone, quindi vi faccio vedere poi il ferro di ritorno. Nel ferro di ritorno lavoro anche il gettato normalmente, perché vi ricordate? Qua l'abbiamo chiuso, quindi ci mancava una maglia. Quindi qui andiamo a lavorare il gettato normalmente. Passo la prima maglia, vado a lavorare a rovescio. E anche il gettato lo lavoro normalmente a rovescio, così. E faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi finisco il ferro. Ecco qui, quindi cosa è successo? Vedete, ho creato le mie asole dove far passare il cinturino. Adesso vado avanti a lavorare normalmente, quindi passando la prima maglia a rovescio, lavorando tutte le maglie, mi raccomando quella centrale lo sapete come dovete lavorarla, e lavorando le ultime due assieme, sia sul dritto che sul rovescio, mi raccomando sul rovescio è un, due maglie, anzi assieme a rovescio ritorto. Io continuo a dirlo perché sennò qui vi viene male. Finché lavoro così, finché non ho un totale di 27 maglie sul ferro. Ok, arrivata a 27 maglie totali, abbiamo ancora questa maglia non lavorata e l'ultima non lavorata, ma la lasciamo così, perché in realtà facciamo questo. Passiamo questa maglia e iniziamo a chiudere, accavalliamo. Da qui poi lavoreremo sempre una maglia e accavalliamo fino praticamente alla fine. Quindi arrivata in fondo, come vi dicevo, questa maglia la chiudiamo. E poi cosa facciamo? Tiriamo il filo, però dobbiamo lasciare una coda che sia due volte la lunghezza della cucitura che poi dobbiamo andare a fare. Quindi una coda piuttosto lunga. Prima di andare a cucire il laterale alla borsa, dobbiamo scegliere se mettere e come mettere i cristalli dove ci sono i buchetti della borsa. Allora vi dico, i buchi sono 30 da una parte, quindi 15 sul davanti, 15 sul retro da una parte e 30 dall'altra, per un totale di 60. Quindi se volete metterlo in tutti i buchi, sia davanti che dietro, dovete avere 60 cristalli. Se invece li volete mettere solo davanti, chiaramente in tutti i buchi, come ho fatto io da questa parte, ne dovete avere 30. Se no potete anche fare, ve lo faccio vedere qui, uno sì e uno no. Cioè lì fate un po' come vi piace di più. Dovete decidere. Io per adesso vado a metterli solo da una parte in maniera che vi faccio vedere la differenza con i cristalli e senza. Quindi infilate in un ago il filo di nylon, lo fissate sul retro, entrate nel primo buco o nel buco dove avete scelto di mettere la vostra perlina, poi infilate la perlina, spero che si veda, comunque vabbè è facile, e rientrate nel buco. e così la perlina, vedete, si fissa. Se volete farlo in tutti i buchi, basta entrare nel buco, infilare la perlina, rientrare nel buco e tirare. E la perlina, vedete, viene fissata. Entrate, perlina, ripassate dal buco e la fissate. Se avete paura che si possano muovere, a parte che qui dietro, vedete, passa il filo di nylon, non so se riesce a vedere perché è proprio trasparente, e poi, siccome viene cucita appunto il laterale, il pezzettino, non lo vedete più. Però nel caso potete anche, anziché entrare solo nel buco così, passare da sopra, in questa maniera, in maniera che così non lo prendete dentro, ma vi assicuro che rompere questo filo qui è molto difficile. Entrare nel buco e mettere la perlina. Se dovete appunto saltare uno o più buchi, è chiaro che il filo lo fate passare da qui sopra, lo nascondete qui. Comunque, io adesso vado avanti, faccio tutta una parte con le perline, e l'altra senza, così vedete la differenza. Ok, ho messo di qua tutte le perline, e poi ho fissato sul retro il filo. E questa è la differenza. Ora, sì, brillano, però con questa luce non si vede tanto bene. Poi, semmai nell'intro, cerco una luce migliore per farvi vedere bene come brillano queste, che non sono perline, sono cristalli proprio, sono proprio belli. Comunque, sta a voi la scelta se metterli o no. Ok, ho fermato con dei marcatori al lucchetto il laterale prima di cucirlo, in modo da sapere bene, da distribuire bene i punti, e da sapere proprio dove entrare con l'ago. Ragazzi, mi spiace farvelo vedere così, ma purtroppo non sono ancora nella mia postazione, sono ancora al mare e appunto non avendo la postazione non ho neanche tutti gli strumenti, le luci, i cavalletti per riprendere al meglio. Spero però che insomma abbiate capito cosa sto facendo. Praticamente, adesso dobbiamo iniziare la cucitura. Quindi, per cucire devo andare a prendere le V che ci sono nel laterale e le V che ci sono nel bordo della borsa. Praticamente, le maglie finali del laterale e le maglie della borsa. Quindi, entro per fissare il filo che esce dal mio laterale. Come abbiamo detto, questo filo l'abbiamo lasciato abbastanza lungo per poter non entra per poter lavorare il tutto senza dover far giunte perché poi è un pasticcio fare le giunte al filo durante la cucitura e quindi entro nella prima V da questa parte e nella prima V da questa. Poi dalla mia parte entro nella prima V del laterale e nella V corrispondente della borsa. Ora, non dovete contare tutte le maglie per quello che l'abbiamo bloccato. Dovete tenerlo ben piatto, entrare in tutte le V del bordo che abbiamo fatto nella borsa e vedere entrando in questa maniera a quale corrisponde del laterale perché non sono lo stesso numero esatto. Entro così rientro dal davanti vado sul retro prossimo entro dal retro e vado sul davanti entro dal davanti e vado sul retro e vado avanti così praticamente a cucire tutta la borsa. Ok, vediamo se così vi è più chiaro, quindi vedete passo dalla parte della borsa in tutti i punti verso in questa maniera il laterale e poi dal laterale vado dalla parte della borsa questo è l'ultimo punto quindi tolgo il marcatore dalla borsa al laterale questo lo facciamo due volte così rimane fisso e dal laterale alla borsa io ritorno dentro il punto successivo e lo ripasso proprio per fermarlo del tutto ecco così poi chiaramente entro e devo nascondere il filo il filo solitamente lo vado a nascondere come ho fatto oddio qui eccolo qua vedete nel bordo della borsa laterale cucito e adesso faccio passare la fibbia nell'asola che abbiamo fatto vedete la faccio passare così e poi rientrare dall'altra parte ed ecco che riesce sul davanti della borsa a questo punto rimontiamo la placchetta bene la borsa è finita io ho fatto solo questo piccolo ciondolo infilando le perline nel filo di nylon e attaccando anche il cavalluccio marino poi l'ho legato alla chiusura come vi ho detto prima se volete potete mettere tutte le perline potete metterne un buco sì un buco no da tutte le due le parti sul davanti oppure sul retro insomma lista a voi alla vostra fantasia chiaramente per oggi è tutto se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao